Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e sì, è il primo video nel quale io torno dopo un'infinità di tempo perché ragazzi, life is life, insomma, io ero impegnata a chiudere tutte le campagne di Natale prima di essere qui davanti a una telecamera so che i booktuber, quelli seri, si organizzano e si preparano io invece faccio le cose a cazzo di cane e quindi here we are e mancavano video, insomma, vabbè ragazzi Amen, siamo sopravvissuti tutti e mentre voi mi avete circondata da questa atmosfera natalizia che io odio, giuro, se io leggo ancora la parola Christmas penso di sclerare io ragazzi purtroppo odio il Natale, non mi è mai piaciuto fin da quando ero bambina figuratevi ora che faccio campagna di Natale da agosto proprio il Natale non mi va giù neanche a pagarlo e ora che booktube è improvvisamente piombato nelle stelline nelle lucine, nel festoni e nella piaga per il mio animo ho deciso che insomma qua vedete ben poco di Natale perché tanto non mi esprime come persona non fa parte di me io odio il Natale, sono il Grinch di questo Natale sono il Grinch di booktube quindi ragazzi invece che consigli io vi do dei consigli seri, pratici quelli per sopravvivere al Natale e cosa c'è di meglio che sopravvivere facendo binge watching e rinchiudendosi in una cripta e uscendo solo il 7 gennaio questo è il mio piano guardando tutte le serie tv da recuperare questo è veramente il video dove io vi sbrodolo tutto ciò che vi può aiutare, ispirare cosa mi è piaciuto, cosa non mi è piaciuto e che dovete vedere per riuscire a sopravvivere a questo Natale in mezzo a parenti, cenoni, regali, sorrisi forzati e rotture di balle ragazzi seguitemi e tenete duro con me perché anche questo Natale ce la faremo ce la faremo a sopravvivere, fidatevi detto ciò, io direi che questo video si dividerà in due parti perché ho segnato veramente tantissimi titoli e voi sapete che io non ho per nulla il dono della sintesi allora io ora vi farò una sorta di guida di sopravvivenza una bibbia per riuscire ad arrivare alla fine delle vacanze o comunque andare avanti durante l'anno nei momenti nei quali non sapete cosa vedere vi suggerisco un po' di serie super storiche di quelle base che insomma bisogna aver visto vi suggerirò cose che sono un po' più recenti e altre ovviamente che secondo me sono quelle serie un po' dimenticate che nessuno cita mai e secondo me invece rimangono tra le cose più belle dell'internet soprattutto ora che ne abbiamo a disposizione dei cataloghi infiniti su tutte le piattaforme quindi niente io direi di iniziare perché ho veramente veramente tantissimo da raccontarvi tantissimo da dirvi l'idea è di suddividerli un po' per categorie per tema per genere insomma che così in base anche ai vostri gusti a quello che vi piace a quello che non vi piace io cercherò di darvi un po' di informazioni e di spingervi ovviamente a vedere quelle che sono tra le mie serie preferite fondamentalmente qua in mezzo vedete un sacco di cose che io amo un sacco ci saranno quasi tutte le mie serie preferite alcune insomma non le ho ritenute troppo consone al Natale però anche quelle che vi ho messo non è che siano troppo consone vabbè ma chi se ne frega non è questo il punto direi di partire partire con qualcosa di leggero di quelli che ti fanno mandare un po' giù il panettone digerire le 38 porzioni di lasagne perché ogni tanto bisogna avere qualcosa di leggero di sottofondo qualcosa di comico che faccia ridere che intrattenga dove non dovete impegnare troppo il cervello perché non tutti tutto il giorno vogliamo impegnare i nostri neuroni però nonostante questo secondo me quelle che vi sto per suggerire che sono serie comiche divertenti ma non solo sono proprio la panacea per tutti i mali la prima serie che non può mancare e che io vi suggerisco tantissimo perché ragazzi è proprio fondamentale secondo me soprattutto se volete parlare di serie comiche è Friends Friends è una serie che è andata in Ondra dal 94 al 2004 e racconta di queste cioè so che fa strano parlare di Friends come se la gente non sapesse cosa fare però magari qualcuno di voi non lo sai non l'ha mai vista però insomma allora Friends parla di questo gruppo di amici Rachel, Ross, Joy, Phoebe, Chandler e Monica che sperimentano fondamentalmente la vita insieme la crescita insomma tutto ciò che comporterà la loro vita dal dopo college fino all'età adulta ed è una serie che ha dei momenti altissimi brillanti cioè secondo me è una di quelle serie divertentissime combattute che ti rimarranno per sempre si incolleranno a te ed è impossibile cioè il gatto rognoso ragazzi vabbè affrontiamo con loro temi legati alla famiglia all'amore all'amicizia tutto ciò che può essere quotidiano ma che sconvolge le vite di tutti e ragazzi secondo me è proprio imprescindibile è vero che è degli anni 90 quindi vedendo la ora risente un pochino del tempo e anche probabilmente anche certe battute hanno un tipo di mentalità che è un po' distante da quella che abbiamo noi ora però ragazzi secondo me non posso fare altro che consigliarvela è adorabile è divertentissima e cioè non potete non avere visto Friends altra serie secondo me imprescindibile che trovate su Netflix proprio come Friends è How I Met Your Mother How I Met Your Mother è andata in onda dal 2005 al 2014 e conta di nove stagioni da circa 20 22 24 episodi l'una quindi insomma avete materiale forever il problema è che vi ritroverete all'ultima puntata senza accorgerne e piangerete tutte le vostre lacrime davvero anche perché effettivamente alla fine voi incontrerete The Mother insomma vabbè ma comunque è una serie che parte con una domanda che rivolgono i figli al padre e che chiedono ma come ha incontrato mamma e da lì c'è il mega flashback della vita di un gruppo di amici sempre a New York che si destreggia tra tutto quello che può voler dire crescere e diventare grandi insieme affrontare la vita insieme i presupposti sono molto simili a quelli di Friends ma hanno dei personaggi molto diversi ed entrambe le serie secondo me si reggono proprio sulla brillantezza dei loro personaggi su battute che sono geniali e fanno situazioni assurde malintesi fraintendimenti insomma tutto ciò che rende forse questo tipo di serie brillanti io ragazzi queste so che sono due cose base da suggerirvi ma potrei non farlo e no non posso perché ragazzi secondo me sono le basi altra serie che vi suggerisco tantissimo è Mozart in the Jungle è una serie che è andata in onda dal 2014 e si è conclusa quest'anno nel 2018 e conta di 4 stagioni da 10 episodi l'una e viene descritta come la serie del sesso droga e musica classica ed effettivamente è apparecchio calzante visto che il protagonista è Rodrigo che è questo direttore d'orchestra sudamericano che viene nominato nuovo direttore della New York Symphony Orchestra e non farà altro che sconvolgere un po' sia la società che ruota attorno un po' a questo gruppo di elite della New York Symphony nelle sue assurdità nel suo essere completamente fuori di testa sarà davvero divertente e appassionante e ragazzi secondo me è da vedere assolutamente perché è pieno di equivoci e pieno di situazioni all'estremo e pieno di situazioni assurde ha a che fare con la musica c'è anche tanto di profondo anche nel suo raccontarlo in maniera molto scanzonata e guardatelo ovviamente non posso fare altro che dire guardatelo e poi sempre per la serie cose divertentissime come non citarvi The Office è una serie che è andata in onda dal 2005 e in teoria si è conclusa ma in maniera non ben definita qualche anno fa più o meno che conta di nove stagioni che vanno dai 6 ai 26 episodi l'una è una serie che tramite uno stile mockumentary completamente assurdo racconta di questa fauna che popola l'ufficio della Don Deer Mifflin Paper Company e tutti i personaggi assurdi eccenterci fuori di testa che ogni giorno regalano solo delle grandissime perle ragazzi questa serie purtroppo ha un difetto diventa una droga sappiate che quando la iniziate smetterete di avere una vita e continuerete a vedere il mondo tramite le battute e gli occhi di The Office questo veramente ragazzi è una di quelle serie che diventano un'ossessione quindi sappiatelo io ve la suggerisco ovviamente tantissimo si trova su Amazon Prime e sempre su Amazon Prime come non citare Parks and Recreation altra serie che secondo me se non è necessaria non so come possa essere definita serie che è andata in onda dal 2009 al 2015 con 7 stagioni che vanno dai 6 ai 24 episodi ragazzi anche qua ci troviamo sempre nel mockumentary e nelle situazioni assurde e seguiamo l'ufficio parchi e attività ricreative penso si traduca così in italiano non l'ho vista in italiano ma c'è in lingua quindi tranquilli anche questa si trova su Amazon Prime e seguiamo un gruppo assurdo di questo ufficio e prendere in giro la burocrazia prendere in giro anche le iniziative speciali la politica di bassa lega la politica comunale di quella piccola infima che però sembra costellata impregnata di un'importanza totale ragazzi fa veramente riderissimo nel suo essere assurdo e quindi ragazzi anche questo è una di quelle cose che se non avete mai visto fatelo fatelo per il vostro bene poi arrivo a titoli che io inserisco nella serie divertenti ma non solo ovviamente e che vi suggerisco anche se sono legati a tematiche abbastanza abbastanza pesanti la prima è Californication penso che tutti ne abbiate sentito parlare è una serie che è andata in onda dal 2007 al 2014 e conta di 7 stagioni da 12 episodi l'una e la storia dietro Californication è quella di Hank Moody che è un scrittore che ha scritto il romanzo della vita il nuovo romanzo americano che però ultimamente non è che stia producendo cose di grande valore si è un po' svenduto ad Hollywood e sta un po' perdendo lo smacco di un tempo ma soprattutto la sua vita sta andando completamente a ruotoli soprattutto noi seguiamo il rapporto con l'amore storico e la figlia che ha avuto da lei e noi ci ritroviamo a seguire la sua ricerca di riconquista dell'amore della sua vita di creare un legame con la figlia mentre il resto della sua vita va completamente a rotoli ha un problemino leggero leggero con una con una dipendenza da sesso droghe e alcol e una difficoltà nel riuscire a scrivere qualcosa di valido di nuovo insomma seguiamo un po' tutte queste cose secondo me è una serie estremamente divertente perché soprattutto noi seguiamo quello che è un totale antieroe noi facciamo fatica a trovare qualcosa per cui simpatizzare perché Hank Moody fa tutto sbagliato però alla fine gli vogliamo un gran bene io ragazzi non so questa sicuramente da bingiare però diciamo la storia è un po' più da seguire rispetto alle serie in precedenza perché chiaramente non potete perdervi un secondo o perdete un po' il senso generale della storia però chiaramente io ve la consiglio l'amo tantissimo c'è David Duchovny che secondo me è pazzesco in questa serie quindi ragazzi cos'altro vi devo dire guardatela altra serie che mescola sicuramente sia il lato comico che soprattutto il lato drammatico cioè facendoli esprimere secondo me in maniera molto equa è Secret Diary of a Cold Girl che è una serie inglese che è andata in onda dal 2007 al 2011 e conta di 4 stagioni da 8 episodi l'uno e seguiamo la storia di Anna cioè una vera e propria cold girl ovvero una escort e seguiamo un po' l'assurdità della sua vita le sue difficoltà nell'avere una vita privata che è molto meno brillante invece della sua vita lavorativa anche la sua indipendenza e nel suo essere estremamente brava nel nascondere questa sua doppia vita tutto ciò che fa parte invece della sua vita vera e secondo me è estremamente divertente ma anche dei momenti molto alti Billy Piper è molto brava come protagonista perché riesce a rendere sia l'aspetto drammatico della sua condizione di doppia vita tenendone nascoste sempre una parte ma è estremamente divertente ci sono dei momenti assurdi delle scene esilaranti ma alterna tantissimi toni è una serie che vedo citare pochissime secondo me invece è molto brillante molto divertente è inglese quindi è già quasi una garanzia a casa mia quindi insomma ve la suggerisco tantissimo se non l'avete mai vista non saprei dove recuperarla ecco però ho fatto un po' di ricerche e dopo la parte un po' divertente volevo citarvi qualche serie un po' teen voi sapete che io i teen drama non li soffro non mi piacciono non li ho mai sopportati non vedrete nessun suggerimento teen drama qua dentro almeno al di fuori di un paio però ci sono serie teen che secondo me meritano moltissimo la prima che mi sento di citare perché la sto guardando ultimamente è Scam Scam Italia tra l'altro vi vorrei suggerire perché nonostante ciò che può sembrare ha assolutamente il suo perché Scam Italia che non è altro che il rifacimento di Scam Norg cioè la serie originale che è norvegese e per ora conta di due stagioni da 11 episodi o da 10 episodi come si prevede per la seconda è una serie che è iniziata nel 2018 ed è disponibile su Team Vision io penso di avere abbonamento a tutti i servizi streaming ragazzi comunque vabbè non è questo il punto Scam segue da vicino la storia di un gruppo di amici e ogni stagione si incentra su un personaggio sul percorso di un personaggio siamo alla seconda serie il personaggio della prima ovviamente ci ha portato a una conclusione della sua storia e pur rimanendo diciamo gravitando sempre attorno anche a personaggi della prima stagione ci spostiamo su quelli della seconda con il protagonista un ragazzo invece stavolta allora vi dico che nonostante io fossi super scettica all'inizio l'avevo messo su guarda quasi per sbaglio e diciamo che la recitazione è un'altra cosa purtroppo ragazzi la recitazione è un po' terrificante a volte non tutti alcuni sono molto bravi però la maggior parte è veramente terribile però ragazzi a parte questo devo dire che registicamente secondo me è molto valida come serie fa delle scelte a volte che sono molto tumblr ma senza mai essere scontatamente tumblr che so che non ha senso però diciamo che l'immaginare è quello l'immaginare è un po' quello che possiamo ritrovare sui social l'amore instagram l'amore tumblr eccetera però non è mai quell'inquadratura che già ti aspetti che già hai visto eccetera ed è per questo che secondo me è molto originale racconta in una chiave di lettura che è super attuale soprattutto con delle intuizioni di fotografia delle intuizioni proprio di regia di scelte della sceneggiatura di scelte soprattutto tecniche un mondo molto attuale una storia che sicuramente parla ai ragazzi molto giovani e ragazzi io sono rimasta sorpresa non pensavo che sarebbe diventato qualcosa di interessante ha una colonna sonora bellissima cioè le playlist sembrano le mie su spotify quindi insomma non potevo non apprezzare e quindi niente se vi capita ragazzi date una possibilità scam italia quantomeno per il lato tecnico perché sperimentano tantissimo è uno di quei progetti che io ho trovato interessante soprattutto perché c'è voglia di sperimentare fare qualcosa di nuovo che parli ad un pubblico giovane che sia non scontato quindi altra serie che però ovviamente secondo me è la madre di tutte le serie teen che poi sfoceranno anche in scam è skins per i più anzianotti di voi magari per quelli che sono cresciuti come me e hanno vissuto l'adolescenza nella prima metà degli anni 2000 che hanno vissuto l'adolescenza nei 2010 ok skins secondo me è stata una di quelle serie davvero innovative davvero sicuramente che hanno cambiato molte prospettive personalmente parlando skins infatti è andata in onda dal 2007 al 2013 e conta di 7 stagioni che vanno dai 6 ai 10 episodi a stagione io sono una grande fan soprattutto delle prime 4 ovviamente skins UK no skins US chiariamo skins segue come proprio scam il modello è proprio lo stesso un gruppo di ragazzi un gruppo di amici allargato ma al contrario di scam che segue solo un personaggio skins segue proprio la storia di tutti e l'evoluzione di ogni personaggio infatti ogni puntata è dedicata proprio a uno di loro e a vedere l'arco narrativo di ogni personaggio e qual è la sua crescita l'arco narrativo di ogni gruppo di amici si concentra su due stagioni e seguiamo ciò che vuol dire l'adolescenza per loro in termini mai troppo assoluti in termini mai buonisti senza voler cercare per forza di trovare la morale però magari mettendo a nudo anche sensazioni veramente molto forti sensazioni molto difficili situazioni disastrose ragazzi secondo me skins da quel punto di vista lì ha un sacco da insegnare a tantissime altre serie trigger warning ci sono degli argomenti abbastanza pesanti si parla di droga con un occhio molto poco diciamo innocente anzi come se fosse qualcosa per parlare insomma c'è un abuso veramente molto alto sia di droga che di alcol si parla di violenza si parla di situazioni familiari pesantissime si parlano di anoressia si parla di malattie mentali è un concentrato di tantissime cose skins se non l'avete mai visto io ve lo suggerisco perché secondo me rappresenta anche un po' gli anni 2010 e so che per molti suonerà anche strano ma secondo me lo è stato per tanti versi è stato un certo tipo di scena è stato un certo tipo di musica legata a questo cioè a me parlava moltissimo nonostante io non abbia mai ovviamente abusato di droghe però secondo me racconta molto di un certo un certo momento ma racconta soprattutto dei ragazzi in maniera molto disinibita da un lato ma anche in maniera molto onesta senza voler girare attorno a determinate questioni ma anzi è stata la prima serie che è riuscita a portare sullo schermo certe questioni che prima non erano mai state affrontate quindi secondo me ha grandi meriti l'altra serie che vi suggerisco che forse tantissimi di voi non hanno neanche mai sentito nominare Kebab for breakfast che è una serie che è andata in onda dal 2006 e 2008 ed è tedesca e conta di tre stagioni per un totale di 53 episodi la serie il titolo originale turco per principianti che in realtà fa ridere anche in italiano come kebab a colazione e seguiamo la storia di due famiglie una di origine turca e l'altra invece tedesca che si ritrovano messe insieme perché i due capofamiglia praticamente si innamorano e diciamo fondono questa famiglia e scopriamo quanto sia difficile la convivenza con due famiglie con già dei figli cresciuti grandi adolescenti e quanto possa essere difficile fare in modo che tutto vada liscio noi seguiamo Lena che è la protagonista che ha la fissazione di riprendere tutto ciò che le succede con la sua videocamera e quindi racconterà la sua adolescenza fondamentalmente in un arco narrativo di 4 anni insieme a lei ci saranno i suoi fratelli acquisiti ci saranno ovviamente le sue amiche i suoi amici amore famiglia ci saranno tantissime cose secondo me è divertentissima ci fa vedere come la convivenza sia difficile da un lato e anche riesce a combinare a raccontare in maniera molto spontanea senza estremizzare sempre le difficoltà ma proprio facendoti vedere il quotidiano le difficoltà quotidiane di chi proviene da una famiglia mista cosa vuol dire crescere in un paese avendo delle origini culturali diversi però sentirsi allo stesso tempo parte integrante di questo paese essere un po' divisi in due insomma per me è divertentissimo penso non lo citi mai nessuno eppure secondo me è stato uno dei miei compagni del ritorno da scuola alle superiori quindi io ve lo suggerisco ovviamente chiaramente se vi piace il genere non potete non vederlo e non farvi delle gran risate vabbè e se pensavate che fino a ora c'eravamo dilungati aspettate ora che arriviamo al punto delle serie drama drama inteso in senso un po' lato nel senso che ci sono davvero tante serie che vi voglio suggerire perché ragazzi sono troppe quelle che amo e mi piacciono parto un po' da tutto ciò che ha a che fare con crime politica spionaggio cose di questo tipo insomma un po' anche misteri diciamo perché credo che ci sia un filone abbastanza denso di serie bellissime la prima che vi suggerisco è True Detective True Detective inizia nel 2014 da tuttora in produzione la terza stagione però potete recuperare la prima la seconda la potete anche lasciare stare a mio parere però se volete farvi del male guardatela però la prima è veramente una delle mie proprio stagioni preferite di tutte le serie tv della storia True Detective conta di due stagioni per un totale di 16 episodi e ogni stagione è autoconclusiva e in questo caso noi seguiamo un caso per ogni stagione che una volta concluso inizierà da tutt'altra prospettiva con presupposti ben diversi e anche un cast molto diverso nella prima stagione seguiamo Matthew McConaughey pazzesco possiamo dirlo cioè pazzesco che insieme a Woody Harrelson forma questa coppia di Detective un po' improbabile un po' che insomma avranno hanno dei drammoni personali abbastanza importanti che seguiranno un caso molto controverso molto sfaccettato e totalmente inaspettato e le loro vite di detective si intrecciano a un caso che dura da 17 anni di un serial killer che non è mai stato beccato e anche proprio la vita di questi due detective che fanno continuamente avanti e indietro tra il 95 cioè l'anno della scoperta di questo caso e il 2012 cioè l'anno nel quale il caso viene riaperto e ci troviamo in Louisiana ci sono queste atmosfere del sud degli Stati Uniti ma in una in una veste molto rude che ti fa vedere anche forse la parte più nascosta che viene tenuta nascosta perché è una parte un po' abbandonata brulla grezza che non ha nulla di diciamo che può attirare non è per nulla Instagram ecco però il caso è veramente secondo me incredibile io non sono una grande fan dei gialli ma devo dirvi che in questo caso secondo me la costruzione che va di pari passo anche con la costruzione del personaggio cioè dei personaggi è veramente pazzesca è veramente molto bella una serie per me proprio che non posso dirvi non guardatela cioè ho provato a finire la seconda stagione mi ha un po' annoiato però ragazzi la prima ve lo giuro cioè ascoltatemi non potete farvela scappare se non l'avete mai vista probabilmente è un consiglio anche un po' scontato perché True Detective è veramente la serie della vita la prima ho grandi aspettative per la terza come non parlare poi di The Fall che è una serie che è andata in onda dal 2013 al 2016 è una potremmo dire è una serie di miniserie non so neanche se si dice in italiano non so neanche se è corretto però vabbè insomma che conta tre stagioni per un totale di 17 episodi c'è Gillian Anderson c'è Jamie Dorman prima che gli dessero tutti i soldi di 50 sfumature di grigio quando nella mia tessa era ancora il conto Eversen in questa serie noi ci troviamo nell'Irlanda del nord quindi anche un setting un po' inusuale e seguiamo una detective alle prese con la ricostruzione di una serie di omicidi e seguiamo anche parallelamente la visione del serial killer il suo cercare sempre vittime che hanno le stesse caratteristiche sempre donne sempre singole ed in carriera insomma e vediamo come Stella che è la che è Gillian Ann cioè la detective cerchi tutti gli spunti per poter trovare un legame e trovare le prime connessioni con il serial killer ma dall'altro seguiamo proprio il lato del serial killer e secondo me questa è la parte più interessante della serie oltre al fatto che Gillian è bravissima è ok però è bello vedere anche qualcosa di un po' inusuale vedere anche la doppia vita del serial killer padre di famiglia di giorno invece ciò che combina con le sue vittime insomma è inquietante ragazzi è bellissima secondo me è una costruzione molto molto interessante e se vi piace il genere perché non l'avete ancora vista e sempre sul filone serial killer omicidi e via andare non posso che non suggerirvi The Killing ma io personalmente vi suggerisco la serie originale che è danese che è andata in onda dal 2007 al 2012 è stato poi fatto un remake americano che però io non capisco perché gli americani devono per forza rifare le robe nord europee anche quando sono già ottime davvero bellissime solo perché non hanno la loro faccia da americanozi vabbè comunque non è questo il punto tre stagioni per un totale di 40 episodi è una crime fiction ambientata a Copenaghen e noi seguiamo Sara Lund che è una detective che segue dei casi molto contorti alcuni molto cruenti ci sono situazioni molto torbide che si svolgono nella città e lei è sul punto di trasferirsi con il compagno in realtà in Svezia ma insomma c'è qualcosa che la tratterà Copenaghen e sotto i cieli super scuri e grigi di Copenaghen però Sara riuscirà a fare dei collegamenti davvero brillanti tra ciò che sta succedendo dal punto di vista criminale nella sua città e la politica e tantissimi esponenti politici partiti non partiti insomma è una storia davvero appassionante perché riesce a fare dei collegamenti molto intelligenti dopo aver ricostruito poi queste atmosfere molto cupe secondo me sono bellissime io ragazzi ovviamente vi consiglio la danese perché secondo me vedere l'americana che replica la cosa danese però rendendo l'americana non ha senso anche perché la serie originale è davvero bellissima è davvero validissima io poi vabbè ho una grande passione per il cinema scandinavo o comunque in generale il cinema nord europeo perché secondo me negli ultimi 15-20 anni hanno davvero sfornato una serie di prodotti validissimi quindi se cercate un qualcosa di inaspettato sempre legato al genere crime poi visto che siamo sempre in questa area come non citarvi The Following una serie tv che è andata in onda dal 2013 al 2015 per tre stagioni e per un totale di 45 episodi quindi è veramente una serie molto lunga anche solo per Kevin Bacon e la sua bravura insieme a quella di James Purfoy vale tantissimo la serie è quella di Ryan che è un ex detective dell'FBI che è esperto di tracciare profili psicologici soprattutto di serial killer che però viene richiamato diciamo in servizio perché Joe Carroll ovvero il killer che lui era riuscito finalmente a incastrare a trovare e a mettere in prigione evade Joe Carroll era uno scrittore anche mediocre che però ha creato grazie ai social media grazie a una serie di adepti una sorta di circolo davvero molto affiattato nei suoi confronti ha creato una vera e propria setta che sfruttando una serie di rimandi ad Edgar Allan Poe creando proprio un culto sulla sua persona un po' alla Charles Manson potremmo dire anche se Charles Manson non ci è riuscito lui sì evade e quindi da lì vuole ricominciare il suo piano e quindi per Ryan diventerà un po' il pallino per cose risolte questioni che lui non è riuscito invece a portare a termine e cose che succederanno nel corso della narrazione vedremo come ci sarà questo inseguimento totale di questo serial killer e soprattutto scovarlo in una rete di adepti che lo proteggono lo nascondono e continuamente diciamo cercano di far disperdere le sue tracce serie che io ho adorato alla follia perché allora gli attori sono veramente tutti bravissimi veramente meravigliosi ma soprattutto ci sono questi rimandi letterari il fatto di sfruttare la figura di Poe per arrivare un po' a definire tracciare un po' il parallelismo tra questo ego super super convinto di essere addirittura equiparabile a Poe proiettarsi verso questa figura che ha creato un culto dei propri adepti e anche l'intreccio con invece l'inseguimento l'intreccio con tutte le indagini di polizia l'intreccio anche con la psicologia sia di Ryan che del serial killer per me è una serie che non so perché non è mai stata molto seguita molto amata ma io la trovo bellissima la trovo davvero brillante soprattutto la prima stagione secondo me spiazza parecchio è davvero molto originale come metodo costruttivo come personaggi sono tutti davvero sfaccettatissimi hanno tutti degli irrisolti che portano anche dentro il caso quindi e proprio a proposito di serial killer ma un po' più fictional che real arriviamo a Bates Motel serie che è andata in onda dal 2013 al 2017 per 5 stagioni ed un totale di 50 episodi Norman Bates lo conosciamo tutti in Psycho anche se questo è diciamo liberamente ispirato ma non ha proprio dei punti di connessione sia con il libro che con la serie diciamo nella serie infatti noi conosciamo un giovane Norman Bates che si è appena trasferito in questo motel che ha appena comprato sua madre a lui sembra un'idea assurda e non sarà un'idea brillante ecco diciamo ed è soprattutto una serie incentrata sul rapporto malatissimo tra Norman e sua madre Norma nel senso che sono una famiglia di pazzi e si vede già dal primo episodio nel quale un tipo si introduce nel loro motel e loro si ritrovano costretti a difendersi più o meno più o meno e soprattutto seguiremo il loro rapporto che è davvero morboso malato hanno questa dipendenza l'uno dall'altro molto forte il fatto che cercheranno di sfuggire anche alle accuse di omicidio eccetera eccetera è una serie che è molto inquietante ma non nel senso inquietante dal punto di vista horror eccetera proprio inquietante perché i personaggi sono tutti psicolabili ovviamente sono tutti fuori di testa però è una serie che cresce man mano e quindi secondo me è molto interessante da bingiare quando volete qualcosa che sia molto poco scontato e che sicuramente vi darà qualche brividino ecco perché sono tutti fuori di testa beh penso sia questo forse uno dei consigli più scontati però visto che eravamo nel crime nel poliziesco eccetera diventa abbastanza facile fare il salto su Homeland Homeland è una serie americana che è andata in onda per la prima volta nel 2011 ed è tuttora in produzione per ora siamo a 7 stagioni per un totale di 84 episodi e la prima stagione e poi cambieranno molto le cose nelle successive si incentra su Nicholas Brody che è un soldato che era stato dato per disperso in Iraq che dopo 8 anni di prigionia riesce a liberarsi viene ritrovato e torna in America viene accolto come un grandissimo eroe da tutti tranne che da Carrie che inizia a sospettare di lui inizia a pensare che si sia convertito e che sia in realtà al servizio di Al Qaeda e quindi Carrie inizia ad indagare segretamente su di lui da lì succederanno un sacco di cose per me è una serie che per almeno le prime 4 stagioni si 3 3 sicuro quarta anche la salvo è pazzesco è una serie che ti tiene così incollata che tu non puoi non bingiarla questa c'è proprio veramente una di quelle serie che ti creano dipendenza e devo dire che le ultime soprassedibili però nel senso secondo me la brillantezza che raggiungono le prime 4 stagioni ce l'hanno poche altre serie veramente intensissima Claire Dance è una delle attrici più brave che ci possano essere secondo me il modo in cui lei interpreta questi conflitti questo suo essere in crisi come persona questo venire giudicata pazza perché è l'unica che pensa a certe cose andare contro tutti e tutti in realtà è molto appassionante è una serie che davvero ti trascina nei mille dubbi dove non si capisce mai se quello che pensa Claire sia una follia o se effettivamente abbia ragione è tutto lasciato molto in sospeso e non c'è mai una vera e propria risposta è tutto giocato su episodi che contraddicono continuamente quella che può essere la verità e quella che può definire più o meno chi ha ragione io devo dire che sinceramente è una delle mie serie preferite soprattutto per le prime stagioni perché è veramente bellissima mi ha tenuta col fiato super sospeso quindi guardate la Natale così vi distraete un sacco e direi che dalla sicurezza nazionale possiamo partire con le cose un po' meno sicurezza nazionale ovvero Turk Gently che riprende un po' le indagini però in maniera molto molto strana è una serie che vi ho già suggerito un sacco di volte e preparatevi perché sarà un colpo al cuore quando arriverete alla fine della seconda è una serie che è andata in onda dal 2016 al 2017 conta solo di due stagioni purtroppo ahimè per un totale di 18 episodi serie che tratta da un romanzo che secondo me è brillantissimo di Douglas Adams ovvero Turk Gently l'esolistic detective e è una serie pazzesca non potete perdervi un minuto perché ragazzi se vi distraete un secondo non capite più niente è una serie dove bisogna stare molto attenti per ora trascinerà nel suo mondo assurdo e con i colori super saturati ed è una serie che segue proprio questo detective olistico e decisamente assurdo Turk Gently proprio ed è il suo assistente Todd ma anche di tutti i personaggi che gravitano attorno a loro un team che comporrà quelli che saranno i vostri nuovi personaggi preferiti sono avventure bizzarre eccentriche al limite dell'assurdo e affronterò fondamentalmente quello che è un grande mistero che devono risolvere però in questo universo che è costellato da personaggi che sono un po' pericolosi a volte altre volte no però sicuramente non potrete dimenticarveli io quando l'hanno cancellata veramente ho sofferto sappiatelo però ve la consiglio tantissimo è una delle serie più belle secondo me uscite negli ultimi anni e sempre sul filo situazioni un po' assurde ma molto di valore cioè qualcosa che non è assurdo fine a se stesso l'altra serie che secondo me è da bingiare assolutamente perché fondamentalmente una mini serie potremmo dire è appunti di un giovane medico che è tratto dai racconti di Bulgakov è una serie britannica che è andata in onda dal 2012 al 2013 è composta da due stagioni per un totale di otto episodi protagonisti Daniel Radcliffe e Jon Hamm e già questo secondo me non vi dovrei dire più niente però e la serie si divide su due archi temporali abbastanza distanti tra loro seguiamo sempre il dottor Baumgard da medico affermato a Mosca dove è già famoso è stimatissimo eccetera e invece la sua giovinezza dove invece viene spedito in campagna quasi al limite con la Siberia e dove impara quello che è il suo mestiere e tutta la narrazione prende il via quando Baumgard proprio ritrova il taccuino nei quali aveva appuntato tutto proprio nel periodo della sua prima del suo primo ruolo da medico dopo l'università ed è una serie assolutamente divertente perché vediamo come nel ripercorrere un po' capire il ruolo di medico che il dottore nella sua giovinezza anche in questi episodi e vicissitudini davvero divertenti assurde quello che può succedere effettivamente in un paese che potrebbe modernizzarsi ma ancora non è pronto non ha gli strumenti ha una povertà assoluta e anche tantissime credenze popolari che un po' impediscono la scienza e il progresso e un po' con uno sguardo molto ironico il dottore adulto ripensa a quello che è stato e quella che è la sua condizione attuale che sicuramente è progredita rispetto alla sua giovinezza e lo riguarda con tantissima ironia ed è una serie davvero molto divertente ci sono quelle scene davvero dove dove provi una grande tenerezza ma ti fa davvero molto anche ridere però ci sono anche tutte le contraddizioni dell'epoca le difficoltà dell'epoca la drammaticità di alcuni avvenimenti che vengono veramente molto sdrammatizzati dalla situazione io una serie che ho adorato sarà che amo John Hamm e Daniel Radcliffe secondo me è un attore bravissimo non so perché viene sempre sottostimato solo perché ha fatto Harry Potter però davvero è una serie che vi consiglio assolutamente allora a questo punto non so se rimanere in tema medico o rimanere in tema John Hamm allora caviamoci il dente John Hamm Mad Men ragazzi è la serie della vita non dirò altro se non l'avete mai vista perché non state guardando Mad Men non lo so c'è poche serie le amo come Mad Men poche poche e invece passiamo al tema medico è sempre in tema storico secondo me una delle serie più belle tra l'altro degli ultimi anni è The Nick The Nick è anche stata una di quelle cancellazioni che a me mi hanno proprio aperto il cuore in due che penso di aver tirato giù tutti i santi del paradiso perché è proprio un'ingiustizia totale però The Nick è la serie della vita sinceramente ragazzi preparatevi spero che vi vogliate fare un po' inquietare però The Nick è una serie che è andata in onda dal 2014 al 2015 è diretta da Steven Sodenberg e Clive Owen è il protagonista e secondo me già a queste voi dovreste averla trovata cioè non basterebbe nient'altro da dire però visto che siamo qua a intrattenerci siamo agli inizi del novecento e seguiamo la storia del dottor Thackeray che assume la guida come chirurgo capo del The Nick che è un ospedale famosissimo di New York John Thackeray è un medico super all'avanguardia che cerca ovviamente di sperimentare con la chirurgia in maniera molto evoluta rispetto ai canoni dell'epoca e che riscontra ovviamente tutte le difficoltà e anche la difficoltà del progresso della medicina e l'impossibilità di trovare degli strumenti o comunque cerca il modo proprio di riuscire ad evolvere le sue tecniche per salvare delle vite dall'altro lato però seguiamo la sua dipendenza dalla cocaina seguiamo proprio come il suo essere un medico all'avanguardia un medico praticamente stimato da tutti che ha delle capacità che nessuno ha e anche questo demone che si porta dietro e che influirà ovviamente sulla sua vita è veramente una serie molto drammatica da un lato ma estremamente affascinante è una serie molto cupa è una serie dai toni davvero molto cupi ma curatissima una ricostruzione storica pazzesca seguiamo questo personaggio proprio che ci prende nelle viscere secondo me Clive Owen e il suo personaggio come sono costruiti è pazzesco ma insieme a lui seguiamo anche tutte quelle che sono le vicessitudini dell'epoca la condizione della donna le questioni razziali ma anche proprio l'evoluzione della medicina la corruzione ci sono tantissimi temi questa secondo me è una delle serie migliori degli ultimi anni quindi secondo me cioè se non l'avete vista boh sappiate che però soffrirete soffrirete quando arriverete alla fine e vi diranno che è stata cancellata e non lo accetterete nessuno lo può accettare Steven Sodenberg manco vi sto a dire che fa una regia pazzesca perché la fotografia solo la fotografia i colori le scelte vabbè però vista tutta questa pesantezza direi di alleggerire un attimo con serie che secondo me sono fatte per il binge watching alleggerire un attimo fino a un certo punto comunque la prima che vi suggerisco è sicuramente The L World che è una serie televisiva che è andata in onda dal 2004 al 2009 anche se attualmente a quanto pare è in produzione la settima stagione no 6 stagioni per un totale di 70 episodi quindi insomma uno di quei binge pazzeschi allora è la classica serie che secondo me è un po' l'erede di Sex and the City però questa volta noi seguiamo tutt'altro tema tutta la vicenda segue un gruppo di donne abbastanza esteso ma non solo che fanno parte sia della comunità LGBT spesso sono lesbiche ma non solo seguiamo proprio tutte queste storie e gli intrecci tra questi personaggi i loro rapporti ma anche i rapporti con l'esterno le difficoltà la quotidianità e la serie racconta proprio in questa maniera molto poco ambigua anzi è molto sincera della comunità che ruota attorno al mondo LGBT femminile di Los Angeles degli inizi 2000 è una serie che proprio come Sex and the City hanno seguito tante vicestitudini tanti personaggi e anche tanti temi che prima di Hell World non erano mai stati trattati soprattutto legati al tema dell'omosessualità io è una serie che veramente ho amato alla follia quando è finita mi è dispiaciuto molto anche se effettivamente aveva senso che finisse ed è una di quelle serie che aprono uno sguardo su tantissime tematiche che introducono tanti argomenti e soprattutto dove i personaggi per quanto tu possa apprezzarli o meno chi più chi meno eccetera hanno veramente un grandissimo ruolo un grandissimo impatto quindi per me è quella la vera forza della narrazione oltre ai temi trattati e anche il modo in cui vengono proprio espossi la sincerità con cui viene fatto secondo me brillante quindi insomma guardatelo e da questo io non posso fare altro che suggerirvi anche Queer as Folk è una serie che è andata in onda dal 2000 al 2005 con da di 5 stagioni per un totale di 83 episodi ed è la serie che a me ha consolato dalla fine di Hell World anche se in realtà è precedente però io non la conoscevo mi ricordo che la scoprì appena era finito Hell World e segue le vicende di 5 uomini gay e di una coppia lesbica che vivono tutti a Pittsburgh seguiamo anche tantissimi approcci diversi sia alla sessualità che anche all'omosessualità le difficoltà quotidiane ma anche tanta ironia tanto modo di vedere le cose in un modo diverso una prospettiva un po' inusuale è una serie che ora forse risulta un po' datata per alcuni aspetti perché ci siamo fortunatamente voluti però vi devo dire che secondo me è un gioiellino ci sono momenti molto belli molto intensi altri dove forse per la prima volta si ritraevano certe dinamiche che non erano proprio proprio pop ai tempi e quindi insomma se cercate un'altra cosa sempre tema similare a Hell World da bingiare allora io mi sa che per oggi ho veramente parlato tantissimo quindi facciamo così domani vi metto sulla seconda parte o nei prossimi giorni spero domani ma magari nei prossimi giorni così abbiamo tutte altre tematiche storico fantasy ma non solo animazione eccetera così avete due video giganteschi nel quale trovare tutte 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 le informazioni per il binge watching definitivo che vi salverà dal Natale insomma io spero che le cose che vi ho suggerito oggi che sono tante è ovvio che non vi ho suggerito tutto se aveste visto l'elenco iniziale di tutte le serie che avrei voluto suggerirvi era infinito ovviamente concludo dicendo che se non avete mai visto Lost fatelo prima di qualsiasi altra cosa che vi ho suggerito oggi perché Lost è la mia serie preferita e io non sono obiettiva a parte sul finale non sono obiettiva con questa serie se non l'avete mai vista fatelo cosa state aspettando non è possibile non averla mai vista detto ciò io spero che questi suggerimenti vi siano piaciuti non vedo l'ora di darvi anche tutti gli altri e direi che per oggi è tutto grazie per aver trascorso un po' di tempo insieme a me io spero di avervi tenuto compagnia e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao